I guai di che ieri sera non c'erano, almeno per premiarli, ed è Fiore Lucio? C'è? No, non c'è? Ok, allora c'è la cognata però. Io avevo preso per l'altro signore, per questo l'ho chiamato. E vieni allora Laura Maria Anzuoni? Laura Maria Anzuoni? Il nome è per conto. Il nome è per conto, ma noi leggiamo la sua di poesia, Laura Maria Anzuoni. Perché ieri sera non c'è, però qui ci vuole l'attrice, vero? E vieni, ho capito a volo, vieni Laura Maria Anzuoni che ieri sera è stata premiata con un bel trofeo per i baci d'amore. Però lei ha scritto anche una bellissima poesia ed è inclusa nella nostra bella antologia. Che adesso facciamo declamare la nostra attrice, la nostra declamatrice Clara. Pensiero. Sei svanito come un sogno. L'ombra di un sogno che fugge. Eppure ancora ieri eri con me. Di cerco ovunque, in ogni angolo o per strada. Sento ancora il tappore della tua mano che riscaldava la mia. E ricordo quello che mi dicesti qualche ora prima. Sono felice solo quando ho la tua mano nella mia. Sento le tue labbra posarsi sulla mia fronte, ogni sera, per darmi la buona notte. Gli anni, mesi, giorni, gli attimi che stavamo insieme sono presenti in derebidi nella mia mente. E nulla può cancellarlo, anche se ciò mi provoca un dolore lacerante. Ovviamente abbiamo letto la corsia tua, ma tu porti via il premio di tuo cognato. Ok? Una foto? Non la diciamo più. Grazie. A posto. Grazie. Grazie ancora.